Si è tenuto nella suggestiva cornice dell'auditorium di Santo Nicolicchio nel centro storico di Polla il secondo appuntamento di incontri in biblioteca. La rassegna letteraria voluta dalla Proloque e dal Comune è realizzata in collaborazione con l'associazione Volta Pagina. E' stato presentato il libro I costruttori di equilibri politici dalla Repubblica dei partiti a quella dei leader di Andrea Covotta, direttore di RAI Quirinale. La cultura in queste settimane è protagonista dell'estate pollese. Incontri in biblioteca e un'altra delle iniziative di promozione della lettura e confronto, dicono gli organizzatori con chi ha scelto di scrivere e di esprimersi al mondo esterno. L'incontro, molto partecipato, ha visto dialogare con l'autore Andrea Covotta, il vice direttore del quotidiano nazionale, Angelo Raffaele Marmo. Il direttore Covotta ha ripercorso snodi cruciali della storia della Repubblica italiana dal dopoguerra ad oggi, analizzando eventi, episodi, personaggi e personalità di rilievo attraverso una riflessione accurata e aperta verso gli scenari futuri. Non sono mancati accenni al delicato e complesso momento della politica italiana attuale. Il dialogo è stato l'occasione per riaffermare l'importanza della funzione della politica e della formazione delle classi dirigenti. La rassegna letteraria Incontri in Biblioteca prevede fino all'8 settembre sette incontri con sette autori per presentare, sottolineano gli organizzatori, le emozioni, i concetti, le storie e le esperienze che in sette libri le parole esprimono in forme, misure e stili diversi e personali.